ciao a tutti oggi non siamo nel mio garage purtroppo guardate qua l'immagine la primissima immagine forse si intuisce allora sono qua per farvi vedere come faccio io la disotturazione del water del vc un sistema che ho già provato un'altra volta ha funzionato molto bene volevo farvi vedere così ci risparmiamo anche bei i soldini del dell'idraulico allora mi faccio vedere in primis bisogna procurarsi un palo un tubo va bene un palo della scopa così e cercare di fare una specie di tappone con dei con degli stracci che qua ho iniziato a già a fare un po la testa di questo di questo attrezzo no buono facciamo vedere qui allora tiriamo l'acqua scarica chiarissimo procediamo alla creazione dell'attrezzo appena iniziato allora eccoci qui come ho fatto vedere avevo già l'attrezzo un po iniziato questo qui si prendono un po di stracci si fa un po di volume si ancorano gli stracci al palo in modo che si riesca a fare un'azione pompante tipo ventosa però non si sfidano gli stracci quando si va ad agire nel bici si fa un po di volume che resti sempre un po morbido vediamo qua vediamo 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 un altro po così così forse non basta mettiamo un altro straccione qui forse così potrebbe anche bastare così non è male così non è male si lega con del nastro qualsiasi nastro di carta scotch quello che vende quello più economico possibile questo è abbastanza saldo e che non scorra nell'acqua un po in fondo vediamo qua vediamo che si veda bene eccoci qua alla fine ci mettiamo anche un sacchettino di nylon magari per per non bagnare gli stracci ma solo per quello in modo che possiamo mettere il per via senza stabilire gli stracchettino e asciugarlo facciamo così il nylon e il sacchettino dovrebbe essere almeno lungo quanto la profondità del del bc il bc intanto si è ricaricato vediamo qua ci mettiamo questo l'importante è che al momento dell'azione ci sia abbastanza acqua nel bc il mio un pochino scarica però non scarica del tutto questo questo è il suppostone diciamo che ci servirà ci avviciniamo al bc in questione adesso si è anche scaricato vediamo qui eccoci qua vediamo qua ci siamo ci siamo e allora pronti nel primo tentativo se tutto va bene parte già subito quando è bello pieno diamo delle pompate belle energiche andiamo con anche altra acqua e allora andiamo andiamo e agreement che abbia funzionato vediamo subito al subito al saccone successivo mettiamo eccoci di nuovo qui il la vaschetta del bc si è ricaricata facciamo l'ultimo tentativo vediamo subito se ha dato il risultato scaricato il nostro su postone ha fatto il suo lavoro spero che il video vi sia stato utile che vi sia stato utile ci vediamo al prossimo video mettete un like e seguitemi nel canale buon proseguimento a tutti ciao ciao